Grazie Grazie Zero eh Apri Zero Cino Lidia No Io vado quel cazzo di questo Questa è già best action Se per sbaglio la ripresa Non lo so Se per sbaglio la ripresa Non lo so Via Non la devi far passare La palla è già in alto Ma lei aspetta è bassa In alto In alto C'è in prima Un'ora Sì Vieto vicino Riva Riva Sì Libero No 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 Voi di far punto Voi di far punto Voi di far punto Voi che ce la fa Quattro Quattro Sì Quattro sei Quattro sei Quattro sei Quattro sei Unarto Un altro A Un alors Un l'attacco 8 a 5 8 a 5 In fact Piazza Sì 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 il 60% dei loro punti ciao signor che bella madonna la presalta buon'ora su 25 paese però via pesca tanto nostro è stato distante che fai solo in attizio no ma ho chiamato bici ok via 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 dai via 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 ora via 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 Siamo in tre con Francesconi che c'è un commento che gli avevano rincavato la pasta prima Non so cosa hai detto tu prima di fare con lui Il punto poi su Fabio però è il parecchio Questo è il vostro next point Muro, 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 muro Fabio ma quando c'è la pallone devi attaccare il pallone Ma che è la pallone di là? Tiri sulle mani e tiri giù Un 100-0 Perfetto 15-11 Perfetto Perfetto Bella palla Guardate tu Inferi Tira 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 T 嘴 Grazie. Vero! Sì, non puoi fare niente. Cazzo! perfetto velocità eccelsa sia in alzata che in attacco perfetto gli servirebbe un vero muratore per tenere via eccola bellissimo 21 cambio coppia 2-0 allora no 6-6-10 5-8 è bellissima e questo va bene non portate il volo proprio non portate il volo proprio non portate il volo alla fine minio 10 0 3-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 2-0 6-0 5-0 Grazie. Grazie. No, non c'è, non c'è bisogno. Grazie. 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 Guarda, devi invadere con l'addome, te lo ripeto, né con le spalle, né con le dite. No, quello non è addome, quella è schia. Questo è addome. Devi fare questo, devi portare indietro, non lasciare stringere il culo. Quindi ci vai andati col collo. Che hai fatto il primo punto, Fabio? Treo. No, non abbiamo il punto qua. Il primo. Otto, uno, vai. Alla. Out. No, vai. Per il due e l'altro. Vai. Zero, uno. re, lontano. Tres, один, tre. Tres, tre, tre. Tres, tre. Tres, tre. Tres, tre. Tres, tre. Tres. No, ogni recensione ha un dite. Altro, otto. Tres. Tres. Perfeziona su. 5 e 8. Perfitti di spingere quella cosa di invisibile, Fabio. Out. Bravissimo, bella l'alto. Che bucca del culo. 6 e 8. Dicino. Ligna. Out. Ligna. Ligna. Via. Uno. Ligna dire. Sì, sì, sì. Ligna dire. Ligna dire. Ligna dire. No, vai di sinistro a destra. 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 7 e 9. Ligna. No. No, vai di sinistro. No, vai di sinistro a destra. No. No... Ehi, buono set, 15 minuti, bella videa. Fallo, cazzo, perché non devi fare invece? Anzi, sai che, anche tutte le volte che conosce l'altro, vai a questo lato, chiamagli la 1 e spingi la palla e il palletto. Si sposta la palla, tu spingi la palla, se la colpisci appunto la madonna, se la manca appunto la palla. Vai, vai. Vinciti. Ligna, 0. Vinciti. Ligna, 0. Vinciti. Vinciti. Guarda la palla. Vinciti. Vinciti. Uno. Vinciti. Io. Ligna, 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 ligna. Cerchi di farci sempre un passo, Simo. Sempre almeno un passo. Prima di difendere, almeno un passo. Poi ti puoi fare quello che vuoi, ma non ti buttare per aver fatto almeno un passo. Vinciti. Dove, guarda, giusto, ma non ti buttare per aver fatto almeno un passo, ma non ti buttare. Sì, molto bene. 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 Linea. Out. Vai, vai. Va bene, va bene, va bene. Sì, molto bene. Uno. 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 . Uno. 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 0 hai saltato a qua lì ma come fai a colpire la palce qui non c'è nulla non c'è la terra fai la rinforza l'attacco su tre passi non due passi un salto in numero 0 0 0 0 0 0 oh 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 oh